Mi sembra abbastanza ovvio che se uno pensa di far ripartire l'economia tassando magari proprio quelle persone che possono creare del lavoro perché hanno delle aziende è completamente folle, anzi una tassazione che aumenta rischia di far perdere posti di lavoro perché va bene dare gli sgravi su chi assumi, però se poi il lavoro non c'è è inutile dare anche questi sgravi e perché il lavoro ci sia bisogna fare in modo che le aziende non siano tassate. Io penso sul mio territorio fino al 19 di settembre fra le tasse quelle regionali e quelle statali pagano per cui solamente da quel momento in poi iniziano fra virgolette ad avere un guadagno loro. Un altro grande problema è stato comunque quello parlando del lavoro della riforma Fornero che ha tenuto nel sistema del lavoro persone che dovevano uscire e così non ha fatto entrare nuove persone nel mondo del lavoro che comunque come ci dicono anche i dati producono di più. Poi quando si parla di equità è vero che c'è bisogno di equità ma l'equità va fatta ridisegnando anche tutti i parametri sulle nuove povertà perché queste sono quella fascia di persone che realmente ora stanno vivendo un grande problema che magari erano tutte quelle che un tempo definivamo anche la media borghesia, le persone comunque che riuscivano a vivere anche abbastanza bene che ora si trovano fuori da qualunque tipo di aiuto e è lì che bisogna andare a agire quando si parla di equità. Equità non vuol dire tassare ancora di più chi magari sul territorio crea lavoro perché altrimenti andiamo a perdere ulteriormente del lavoro e così creiamo ancora più problemi sia per quanto riguarda il lavoro quello del privato sia nel pubblico perché il pubblico dobbiamo dircele questo è legato comunque anche all'immigrazione dovuta agli sbarchi dovuta ai richiedenti esilo ha dei seri problemi perché c'è il welfare che si è spostato e è stato ridisegnato su loro e non su quello che sono le nuove povertà per cui ci troviamo degli italiani che fino a un anno fa riuscivano benissimo abbastanza bene sopravvivere alla crisi che dormono in macchina e dall'altra parte ci troviamo invece dei fondi anche sociali europei utilizzati per l'inserimento lavorativo di persone che domani l'altro scopriremo clandestine bisogna ridisegnare tutto se vuoi parlare di equità in questo caso non è aumentando l'età se è una persona che ha un'azienda Grazie mille